Vi parlerò del nuovo percorso che porta alla verità di Gesù Cristo. Esso fu la speranza di Papa Giovanni Paolo II, espressa nel punto 56 dell'Enciclica, intitolata Fides et Ratio. La ragione di questo invio dei filosofi alla ricerca del nuovo percorso è che tutto il Magistero della Chiesa ha già esplorato il percorso della fede, che porta a credere in Gesù. Se il Papa a un certo punto manda i filosofi alla ricerca di questo nuovo percorso, è a causa dell'ignoranza ammessa dal Papa di non conoscere un nuovo percorso. Ebbene, questo nuovo percorso deve essere compiuto secondo un nuovo cammino, che parta non più dalla fede, ma dalla pura ragione e dalla capacità della filosofia di indagare su ciò che è vero oppure no, tanto da motivarne le ragioni. Pertanto noi abbiamo due contesti in cui possiamo attuare la nostra indagine. Il primo è quello della filosofia, il secondo quello della scienza, due percorsi che possono essere congiunti e unificati in uno solo, che appartenga alla filosofia della scienza, ossia alla epistemologia. Noi qui possiamo procedere in modo separato e dopo unire le due immagini diverse della verità, separarli nel percorso filosofico e in quello prettamente scientifico. Cominciamo da primo, quello della filosofia. In filosofia Gesù ha chiamato Padre il fondamento di quell'essere che a Elea, cinque secoli prima di Cristo, aveva avuto già la sua prima epifania, attraverso quegli stessi tre grandi maestri remagi storici, chiamati Senofane, Parmenide e Zenone di Elea. Questa sorta di invasione dell'essere di Yahweh, che si qualificò a Mosè come Io sono, Chi sono? Questa invasione di Yahweh in filosofia è esattamente corrispondente alla speranza di Papa Giovanni Paolo II. Era già accaduto in Italia e proprio sotto quel monte stella alla cui base, come nel presepio, ci fu il pubblico riconoscimento, quella resa manifesta della verità che è chiamata precisamente Epifania. Pertanto Gesù, proprio esattamente nel momento della sua venuta al mondo, è celebrato da San Matteo, proprio come l'avvento di Yahweh nella filosofia. una circostanza che non può essere considerata nel novero delle cose a caso e che la Divina Providenza ha messo proprio in una grande evidenza. quando, a pochi decenni dall'arrivo del primo millennio, proprio la tomba di San Matteo, il primo evangelista, che racconta in sostanza di quanto era già accaduto prima nella cittadina di Elea, è trovata proprio nel cimitero di Elea, che era stato interrato dal mare e che poi era venuto proprio in quel tempo allo scoperto. E lì trovarono la tomba di San Matteo, che poi fu traslata subito a Salerno, e è divenuto San Matteo il patrono di Salerno. Ma in quel periodo di cinque secoli a.C., possiamo unire ai remagi di Elea anche un'altra grande figura di filosofo e matematico, Pitagora, che a Crotone aveva fondato una scuola di filosofia e di matematica che aveva chiamato Nuova Scuola, che aveva chiamato Scuola Italica. Sarà poi proprio la mia persona a riaprire questa scuola italica, chiamandola Nuova Scuola Italica, proprio per avere ripreso quella concezione pitagorica che aveva portato all'affermazione che al fondamento in essere di tutte le cose, quel fondamento che aveva avuto la sua epifania a Elea, ci si arriva attraverso il numero. Ebbene, cinque secoli dopo tutto questo, Gesù ritorna sul numero e rivela come il fondamento di tutte le cose sia uno e trino, nel segno del numero uno e del numero tre, tanto che sia due nel valore di media, quel valore binario che poi portò Gesù a riconoscerlo nel dualismo paterno costituito da Padre e Spirito Santo dell'Unità. In filosofia era già stata postulata l'esistenza di un mondo binario, ma era collocata tra Dio e il mondo. La causa di ogni cosa è il suo fondamentale effetto della creazione del mondo. invece l'idea di Gesù di un fondamento non unico, ma nelle forme binarie, appartiene proprio a una filosofia nuova che insegna a partire da un fondamento ideale che, in relazione a Gesù, nasce proprio a partire dallo Spirito Santo della divina conoscenza di ciò che è vero. Ebbene, anche se si tratta di una rivelazione che Gesù fa, la coppia fondamentale di due talenti divini, posseduti da un unico e solo Dio, oggi può essere studiata e confrontata con la verità che è in nostro possesso. Infatti, la creazione del mondo, in ogni contesto, richiede sempre, nel mondo della vita, due genitori, ma anche nel mondo materiale. Infatti, ogni corpo è composto della duplicità costituita da materia e da antimateria. Nel campo della filosofia, Platone aveva già investigato in relazione all'unità, ma per Platone l'unità era il risultato di un rapporto tra due entità uguali e contrarie. Due secoli dopo, un filosofo che assomiglia a Platone è un neoplatonico che si chiama Plotino, ritorna sul concetto dell'unità. Ne fa un argomento fondamentale per lui. E per lui l'unità viene prima della sua duplice emanazione negli opposti. ma nel loro mezzo noi non possiamo in alcun modo ignorare il contributo di Gesù Cristo che afferma, a differenza di Platone e di Plotino, non la derivazione dell'uno dall'altro, ma l'esserci simultaneo di tutti e due. Sia di quanto è uno, sia di quanto è due, ed è diviso in due opposti fondamentali che Gesù identificò nel Padre come nell'unico creatore e nel suo Figlio come nel suo primo effetto universale e creativo. Ebbene, nessuno in una questione così importante ha messo in particolare rilievo la nuova idea di Gesù, quella della coesistenza tra uno e due, come una triplicità di talenti fondamentali e costituenti, uniti all'unità, addirittura l'unità e la trinità in una essenza quadridimensionale. Mentre la filosofia in quel tempo faceva battaglie, parlo nei primordi della filosofia, quella che aveva preceduto Gesù Cristo, faceva battaglie tra se fosse vero come fondamento l'essere oppure il divenire delle cose e poi si credette nell'impossibile coesistenza di due verità uguali e contrarie, Gesù afferma proprio che è vero questo apparente non senso. E lo fa in un modo così pieno e completo da arrivare addirittura a chiamare primo quello che è l'ultimo e viceversa. Quando Gesù afferma che chi desidera salvare la sua vita nello stesso momento in cui desidera salvarla la perde, Gesù fa una descrizione filosofica di quello che è il contraddirsi fondamentale di ciò che è posto proprio a base della esistenza che noi oggi conosciamo sotto il profilo scientifico? E chi afferma che la sua dissertazione non è ammissibile nel campo della filosofia, perché non è il frutto della ragione, ma di ciò che la contraddice, fino alla stupidità, perché una cosa è se stessa e non è il suo opposto? Ebbene, io dico che il livello del senso filosofico portato in campo da Gesù Cristo è talmente profondo e sfuggente, trascendente, lo stesso senso della nostra realtà che sembra non avere un senso, non avere una ragione, ma ce l'ha talmente in profondità da costituire la stessa ragione di una ragione. Infatti, sembra un non senso quello di chi afferma che una cosa non è se stessa, ma il suo uguale contrario. Ebbene, oggi è verificato dalla fisica quando essa afferma che l'azione non è dell'azione, ma è della reazione. Come il su di un'onda non è il su di un'onda, ma è del suo basso. Oggi si sa molto bene che la ragione della dinamica di uno, più uno, non sta in più uno, ma sta proprio nel suo valore uguale e contrario costituito da meno uno. Questo è il terzo principio della dinamica, chiamato di azione e di reazione, che giustifica una cosa solo ed esattamente sulla base di quella uguale e contraria nella sua dinamica. La dinamica è quella che porta alla presenza, che porta alla realizzazione di un effetto a partire da una causa. Ebbene, la causa di più uno, riconosciuta vera dalla legge dinamica, è meno uno. Ecco come la verità fondamentale di Gesù, che sembrava una cosa che non aveva senso, era invece una cosa che aveva un senso così profondo, collocato proprio nell'atto creativo, da sembrare di non avere senso. E nessuno dei contemporanei ha pertanto ritenuto sensato il discorso fatto da Gesù Cristo, che fu lasciato completamente a chi aveva fede, perché la fede non si poggia sulla ragione. E la ragione di Gesù Cristo sembrava non poggiata sulla ragione, ma sull'opposto della ragione. Perché non si può dire umanamente a una persona, se vuoi una cosa, fuggila. Oggi lo sappiamo che è così. L'amore, lo stesso amore, insegue chi lo fugge. Chi invece cerca amore, quasi sempre non trova amore. Dunque, dal momento che dopo il basso di un'onda segue l'alto, chi vuole avere successo nella sua vita non deve perseguire l'alto, ma deve proprio fare come consigliava Gesù quando diceva abbassati che sarai alzato. Con ciò Gesù mostra la sua visione complessa dell'esistenza, composta dall'azione del puro Spirito, che poi è inteso come Spirito Santo, ed è il puro Spirito dell'osservatore della fisica. E, dall'altro lato, la dinamica dei corpi, che è osservata. Ed è proprio quella dinamica dell'acqua a cui si riferì Gesù. Perché sta nell'acqua e nella dinamica della molecola dell'acqua che sorge il rapporto che poi porterà la fisica a scegliere proprio la molecola dell'acqua per definire il chilogrammo, ideale rappresentatore della massa unitaria. Gesù rivelò a Nicodemo che era l'unico maestro che esisteva a quel tempo tra coloro che seguivano Gesù, che l'osservazione della dinamica dell'anima solo con quella osservazione diretta era possibile entrare nel Regno dei Cieli. Gesù lo affermò, notate bene, con un duplice in verità, in verità io ti dico. Gesù lo stava dicendo raccontando il vero, quel vero che trascende la realtà ed è a base della realtà materiale del mondo che poi noi vediamo attraverso lo Spirito. Ma questa trascendenza non era qualcosa di insensato ma solo qualcosa di uguale e opposto. non più la materia, ma il suo opposto, l'antimateria, che allora non si conosceva. non più il flusso della mente, quello reale nel suo essere, che oggi noi sappiamo è quella l'elettricità cerebrale che c'è come l'attività sensibile che corrisponde al pensiero di un uomo vivo, ma il suo valore opposto e che oggi noi sappiamo consiste nel magnetismo. Gesù fu chiarissimo con Nicodemo quando gli disse tu mi hai chiesto di conoscere l'altro mondo, come ci si arriva, ma tu non conosci ancora come è fatto questo, questo reale. Pertanto tu puoi solo fare questo, credermi, prendermi in parola, perché io vengo di là. E' qui che filosofia e scienza di Gesù diventano epistemologia, diventano filosofia della scienza. Gesù infatti disse a Nicodemo la verità in cui egli a quel tempo avrebbe dovuto credere, a ragione della ignoranza che esisteva in quei tempi circa la conoscenza del nostro mondo complesso. Ma oggi il desiderio del Papa di questo nuovo percorso che porti alla verità di Gesù è opportuno nel modo più grande che si possa immaginare. Il Vangelo di San Giovanni, capitolo 3, contiene la spiegazione scientifica del reale modo con cui si può salire in paradiso. Che non poteva ancora essere preso in considerazione nella sua spiegazione data a Nicodemo. Allora non si conosceva ancora come era fatto questo mondo. Perché non è una spiegazione trascendente, divina, allusiva, incomprensibile. No! È la spiegazione reale del reale percorso che porta realmente ogni uomo in paradiso. Fu affermata da Gesù la necessità per ogni uomo di una osservazione trinitaria della stessa vita. Il primo percorso parte dalla fine della vita, come dal suo vero e proprio inizio. che ha inizio come un progetto probabilistico messo su attraverso due fondamentali valori. Lo zero di quanto tutto esiste in potenza è l'uno di quanto tutto esiste in una azione reale e unitaria. La coesistenza di zero e uno in tutti i modi possibili e immaginabili che compongono, diciamo così, l'essere in potenza e l'essere in realtà, e che compongono lo zero e l'uno porta a tutte le possibili stringhe composte da zero e da uno in tutti i possibili modi, come se fossero proprio gli ordini relativi a un DVD che poi possa essere trasformato nella rappresentazione ideale di questo DVD quando interviene un insieme di regole, un software, e quando c'è un macchinario corporeo, un hardware, in grado di tradurre in una rappresentazione possibile quella stringa sulla base delle regole rappresentative. Ebbene, nel momento della morte soggettiva esiste la pienezza di questo disegno. Ogni persona ha compiuto tutto il disegno che comprende tutte le indicazioni, tutti gli ordini per portare poi alla possibile percezione di un mondo che sia rappresentato, che sia rappresentabile. Questo è il momento della morte, quando tutto il progetto è compiuto. Ebbene, il primo movimento che esiste deve essere che questo disegno parte da quel punto della morte e comincia a correre verso la sua completezza. Quando il disegno è tutto completo e si è svolto interamente, quel punto lì è arrivato al momento della concezione soggettiva. Il primo momento in cui, dalle due dotazioni genetiche di padre e madre, di spermatozoo e ovulo, si costituisce il primo uovo, che poi diventano due, quattro, sei. Quindi, in quel primo momento, tutto il disegno si è svolto. Esso è ben delimitato. Già dall'inizio c'è il momento della concezione, tutta la vita come si svolgerà, fino alla sua completezza nel punto della morte. Non ci sono fantasie da compiere. Il disegno è tutto compiuto. Ma è un disegno non visto. Tutto questo movimento verso il passato che ha portato questo apparente uomo morto, che ancora non esiste, portandogli il progetto fino a quel punto iniziale in cui l'uomo può cominciare a percepirlo in modo relativo, proprio al disegno, ecco, è in quel preciso momento, sulla base del primo che esiste tutto, che il soggetto reale può cominciare a contrapporsi e a leggere il disegno. A mano a mano che il soggetto legge il disegno, con le regole che a mano a mano entrano a far parte della sua conoscenza, comincia la possibile visione di un mondo che è ottenuto attraverso proprio le regole che sono apprese e l'uso della macchina. Mentre nei nostri video noi vediamo che da fuori della macchina un soggetto, osservando il monitor, vede la rappresentazione nel campo in cui noi siamo è proprio il soggetto che da dentro è l'autore della rappresentazione e si vede dentro il suo mondo non dal suo esterno per come poi invece lo vede un altro. Diventa il soggetto un puro punto di osservazione un punto che in se stesso non ha nulla è un punto geometrico. Vedrà in questo secondo movimento tutta la stringa e la concepirà in azione farà sue le azioni che vede compiute si immedesima con il personaggio fino alla fine. Ed ecco giunto alla fine accade una cosa imprevista al soggetto nel punto della morte. Quello è un punto di arrivo. L'onda che svolge sempre un percorso possibile perché trova sempre la possibilità di andare lì vicino è arrivata alla fine della sua stringa e l'onda rifluisce su se stessa ritorna sul suo passato tutti i passi compiuti dall'uomo e che non sono finiti ci sono tutti uno dopo l'altro cominciano a essere ripercorsi nella opposta direzione che attraverso un percorso compiuto come da un gambero che cammina a rovescio riporteranno a poco a poco il soggetto nel terzo tempo dell'esistenza del suo progetto a vedere finalmente il progetto in sé perché finalmente è osservato non poteva essere osservato quando esisteva come prima cosa da un soggetto relativo che è in grado di osservare solo sulla base di una cosa che esista prima e quindi c'era la necessità che prima esistesse il progetto prima che un'anima lo potesse animare ma dopo che è stato visto tutto il progetto animato è possibile vedere finalmente il progetto in sé proprio attraverso ora l'animazione di tutta la vita vista e comincia il purgatorio della vista perché rivivendo tutte le azioni nel modo esattamente uguale e contrario questa esperienza mentre cancella realmente l'esistenza di tutte le cose che sono apparse realmente fatte riporta ogni ogni uomo veramente ha un tempo precedente a quelle azioni che apparivano fatte l'uomo ritorna veramente puro nel suo spirito a mano a mano che le cose che sembrava avesse fatte si annichiliscono tutte e rientrano tutte e solo in quel campo del possibile che non è ancora accaduto e quando l'uomo ritorna come bambino ha recuperato veramente tutta la sua innocenza perché non solo tutto quello che ha compiuto è stato letteralmente tolto di mezzo non era vero è stato visto fatto e poi è stato visto disfatto tutto però ha contribuito a creare nel puro spirito un qualcosa che ora non è più un puro punto ma è un abito mentale e quindi quando l'uomo rientra finalmente in suo padre e sua madre vi rientra con un abito mentale c'è c'è la necessità di un ritorno perché la morte e la nascita sono diversi tra loro la morte è il punto di arrivo come un raggio di luce che ha incontrato uno specchio e riflesso indietro invece la nascita non è un punto di arrivo perché si nasce dai due genitori che sono nati a loro volta dai genitori e quindi lo spirito non è rispedito nuovamente nella visione della vita ma continua in quel percorso e va a sperimentare la vita ed essenza dei suoi antenati poco alla volta nel terzo momento della stessa vita finalmente è percepito e capito che si esiste in un progetto che trascende la verità delle cose che sembrano fatte dall'uomo perché si arriva a capire in un modo ineccepibile che c'è solo una onnipotenza alla base di ogni cosa che appare messa in azione dal singolo c'è solo un sistema onnipotente chiamato Dio in grado di realizzare tutto il possibile miscelando l'essere al non essere perché solo un Dio assoluto non è schiavo dell'essere tanto che possa solo essere ma è tanto in possesso dell'essere che può farlo non essere tanto che Dio possa essere l'essere è il suo stesso non essere uno esercitato in cielo laddove c'è la scelta creativa l'altra attraverso l'inconsistenza assoluta di un insieme di personaggi creati che in se stessi non sono ma che sono tutti comandati da quell'essenza che è in cielo e che li anima e che è solo anima di Dio così questo credere che potrebbe apparire una pura filosofia basata sull'immaginazione invece è collocata in modo forte su tutta la conoscenza che si ha oggi della scienza il ritorno attraverso le vie dell'antimateria e del magnetismo a un punto centrale di ogni cosa oggi non è una vaga idea ma è una risultanza precisa della scienza e c'è quello che è visto poi in contrapposizione ed è nella parvenza del movimento centrifugo che oggi è attestato nelle forme di un reale movimento che ha per soggetto non più i soggetti di prima ma quelli uguali e contrari che sono la luce e la materia queste due presenze ci sono entrambe ma vedete la stessa scienza di oggi non è in possesso ancora del know-how di Gesù a causa della teoria del Big Bang la quale afferma che c'è stata al principio dell'esistenza una grande esplosione tale da aver avuto la capacità di opporsi a quella gravitazione universale che attira al centro tutte le masse e perché perché le masse materiali e le luci delle galassie sono realmente viste allontanarsi ebbene la scienza di oggi che crede nel Big Bang in contrapposizione alla gravitazione universale e non come la percezione normale di ciò che esiste ed è uguale e contrario tra la materia e quel puro spirito che la osserva rivela di non essere ancora arrivata all'altezza filosofica di quello in cui Gesù diceva di credere sembra proprio che l'intelligenza della ragione quella di oggi e badate bene non ha fatto alcun tesoro della lezione data da Galileo Galilei quando egli rivelò che il movimento relativo che vedevamo nel sole dipendeva dalla osservazione che era fatta da un soggetto che si muoveva sulla terra e muovendosi sulla terra che ruotava di conseguenza si vedeva la rotazione del sole questa osservazione fatta oramai centinaia di anni fa da Galileo Galilei che ha avallato il principio di azione e reazione non ha portato nessuna capacità di capire all'uomo perché vedendo la fuga delle galassie non è ancora in grado di capire che sta vedendo non l'azione ma la reazione di conseguenza mentre l'azione appartiene alle masse antimateriali che sono veramente attratte verso il centro e al magnetismo che è veramente attratto verso il centro non si vedono queste realtà ma quelle uguali e contrarie che essendo uguali e contrarie mostrano anche una dinamica uguale e contraria tanto che quella massa materiale che sta nelle stelle che si dilatano è la visione uguale e contraria delle masse opposte antimateriali che stanno andando verso il centro allo stesso modo l'espansione della luce è l'accentrarsi del magnetismo visto in modo uguale e contrario la filosofia di Gesù rivelò un giudizio fondamentale posto a monte di quello poi di Galileo Galilei che è il puro spirito soggettivo il motore di tutto l'apparente moto materiale è il puro spirito il motore di tutto il movimento che appare quando uno scienziato Darwin provò l'evoluzione della specie la scienza l'ha accettata completamente e accettandola in sostanza ha accettato nella querelle tra l'essere e il divenire il punto di vista di Eraclito quello del divenire avendo accettato l'idea che nel mondo tutto diviene per cui andiamo tutti verso un futuro ma come è possibile mai che quella scienza che conosce bene oramai come se noi vediamo un fenomeno di azione e reazione è perché il baricentro rimane fermo una massa è espansa in una direzione di conseguenza l'altra è espansa nel senso opposto il baricentro rimane fermo ebbene se questo è vero che il baricentro non si sposta in avanti nel tempo come fa la scienza che fa un corretto uso della ragione filosofica a credere che tutto vada in avanti se il baricentro è fermo invece la filosofia di Gesù era perfetta quando diceva che il baricentro del punto di osservazione dello spirito era lì a determinare poi la possibile visione uguale e contraria dell'altro movimento per cui se non si vede scendere dall'alto non si arriva in quel regno dei cieli che è dato da una conoscenza veramente finale e approfondita di come stanno le cose il baricentro di ogni cosa è immobile così quell'avanzamento nel tempo futuro e quel ritorno nel tempo passato sono solo due opposte derivazioni che vengono tutte originate da quel punto centrale e immobile del nostro spirito noi siamo capaci di supporre il futuro sulla base del passato ma entrambi sono solo pure idee create da una mente il cui puro spirito è divino cioè è capace di generare idee da se stesso ogni tipo di idea della materia e di quanto attiene al contesto legato all'essere dell'anima ma fino a che questa conoscenza non esiste ancora con il suo giusto giudizio con la sua giusta lettura non esiste ancora in sé nelle sue conclusioni manca ancora la capacità di capire quello che Gesù disse su una visione filosofica che ancora adesso non è stata scoperta dall'uomo la filosofia di Gesù circa il mondo e l'altro mondo non c'è ancora il suo contesto è lasciato alla fede la quale oggi non ha la capacità di immaginare realmente di che cosa si tratta e immagina un paradiso vago che chissà com'è ma al contrario Gesù rivelò tutto sottolineando che lui stava parlando in verità in verità e non più in parabole in un modo allusivo che doveva essere interpretato no quella che Gesù stava dicendo a Nicodemo era la verità reale per arrivare a scoprire la verità di questa filosofia di Gesù detta a Nicodemo se ci si arriva si fa un passo così grande per l'umanità intera che è molto molto più grande di quel piccolo grande passo che fu fatto da Armstrong sulla luna Gesù infatti afferma la centralità dell'essere del puro spirito che gli chiamò spirito santo dal momento che un semplice e puro punto di osservazione geometrico ha una grandezza che non c'è e non può essere piena di preconcetti la vera povertà di spirito appartiene alla pura capacità di percepire senza che la percezione sia modificata da nulla che possa preesistere come un preconcetto personale ottenuto attraverso una grandezza personale quando c'è un puro punto di vista geometrico esso non ha alcuno spazio anche se c'è esiste e noi lo possiamo individuare nella geometria chiamandolo A B C c'è un punto che esiste ma che non ha alcuno spazio la percezione puntiforme caratteristica del puro spirito accade in quel punto immobile centripeto e non centripeto baricentrico dei due movimenti delle masse lì sta la percezione del puro spirito e da quel punto di vista è possibile creare l'immagine di un infinito futuro di un infinito passato e addirittura di un mondo intero lo vedremo più avanti al nostro soggetto basterà un puro calcolo per definire il futuro 10 diviso 9 allo stesso modo partendo da un risultato qualunque di questo calcolo che è stato ottenuto attraverso 10 diviso 9 è possibile costruire un suo possibile futuro perché attraverso 1,1111111 eterno moltiplicato per 9 a stavolta si arriva a un 9,999999 che è l'infinito possibile passato di una causa fondamentale che è 10 ed è sempre irraggiungibile dalla realtà concreta di una divisione in atto potremmo arrivarci se se siamo i padroni di questa divisione perché 10 noni è un rapporto che esiste esiste tutto nel 10 e nel 9 se a 10 noni moltiplichiamo il 9 arriviamo al 10 ma noi realmente non arriveremo mai ad avere un'idea determinata da questo calcolo perché il risultato è un 1,111 infinito e quindi sulla base di questo calcolo matematico noi potremo ottenere la visualizzazione di un mondo infinito ci apparirà poi come un frattale perché dividendo per 9 noi avremo nella linea del flusso sempre decimi successivi e si sa bene che quando in una visione frontale noi aggiungiamo un decimo successivo noi realizziamo la possibile visione frattale ebbene noi stiamo vedendo un frattale che ci porta a un unico risultato possibile immaginabile quello che stiamo vedendo perché il risultato di 10 noni è uno solo anche se infinito e anche quello che noi possiamo vedere nelle masse in movimento ossia nella forma ammassata del tacolo visibile il risultato è uno solo per quante volte Cesare nascesse andrebbe a finire sempre a quelli iddi di marzo perché l'uomo quando vede la sua vita sta vedendo un progetto che è quello che gli è stato assegnato a questo si arriva di comprensibile attraverso la valutazione del percorso indicato da Gesù non è strano il caso del nostro eterno esistere in un presente che c'è sempre presente noi andiamo nel futuro ma siamo sempre lì nel nostro presente non è un caso noi siamo sempre nel baricentro di ogni cosa noi attraverso la nostra analisi effettuata attraverso singoli vettori componenti essendo puri punti di vista fondiamo immediatamente tre di questi indirizzi uno quello dell'asse della vista l'altro quello del fronte che è composto da altre due perpendicolari infinite uguali e contrari è il nostro puro spirito che fa questa dissociazione in tre per fissare tre fondamentali capacità chiamiamole così talenti virtuali potenze assolute padre figlio spirito santo in grado di determinare un volume lo spazio è costruito attraverso questa nostra capacità di dissociare l'unità ai componenti questo talento creativo ci porta ad essere padre figlio e spirito santo capaci nella nostra trinità di realizzare queste tre visioni illimitate una ho detto è l'asse dell'osservazione che è un solo punto di spazio ma contiene l'infinito tempo illimitato tutto contenuto allineato e coperto come una retta infinita che noi non possiamo vedere se non in un punto non ne vediamo lo spazio e allora ne vedremo il tempo le altre due perpendicolari assi perpendicolari formano il piano della nostra osservazione reale ebbene un punto uno simile a quello che valutiamo poi nel tempo è dilatato a dieci unità in orizzontale ed è dilatato a dieci unità in verticale lo sappiamo bene dieci volte zero perché un punto non ha spazio è zero ma se noi osserviamo le cose in se stesse dieci volte uno è in sé l'ampliamento dieci fatto a uno pur essendo un punto senza alcuna dimensione noi virtualmente siamo messi in grado di ampliare a dieci quella dimensione uno e in tal modo è creata una capacità di immaginare rappresentativa capace di ampliare a cento questo nostro quadro uno per uno che se non fosse ampliato non ci porterebbe a vedere nulla in questo punto di fuga di ogni cosa ma grazie adesso siamo messi in condizione di ampliare a cento il nostro punto di osservazione e quello che c'è a zero da quel punto fino al nostro punto è reso visibile in una serie di rapporti relativi attraverso la rappresentazione del mondo fornita dal sistema degli assi cartesiani noi dobbiamo sapere questa cosa fondamentale che ogni cosa che noi siamo in grado di rappresentare è essa stessa quella rappresentazione che sembra essere la reale capacità di rappresentare il nostro mondo attraverso le quattro componenti che sono quelle tre del sistema cartesiano sommate al tempo che è visto in profondità formano quella capacità di vedere le quattro dimensioni della nostra realtà fisica questo è il fondamento della lezione che Gesù Cristo diede a Nicodemo quando disse per poter entrare nel regno dei cieli la prima cosa necessaria da fare è scendere dall'alto Gesù intendeva dire proprio che c'era la necessità di ragionare terra terra smettendola in quel modo confuso di immaginare l'alto come un cielo disancorato assolutamente dalla nostra realtà bisognava smetterla con questo alto e cominciare a scendere da questo alto facendo finalmente ragionamenti che fossero terra terra bisognava scendere da questo futuro immaginifico e ritornare al nostro reale punto di osservazione infatti Nicodemo capì bene che cosa Gesù intendesse dire infatti rispose dunque un vecchio deve ritornare nel suo grebo materno giacché Nicodemo aveva capito proprio che questo alto fosse il futuro bisognava ritornare al presente Gesù aveva dato una comunicazione giusta Nicodemo aveva capito da dove bisognava scendere ma a questo punto Nicodemo aggiunse per nascere di nuovo qui Gesù lo interruppe e lo corresse dicendogli ci sono due versi in relazione all'osservazione della stessa vita quella dei corpi e quella del puro spirito qui Gesù rivela la complessità della sua visione la morte spinge l'essere di ogni persona a ritornare sui suoi passi reali questi questi nostri passi sono tutti realmente esistenti uno dopo l'altro e ne vediamo solo uno perché dipendono dalla osservazione di uno il passo A dopo il passo prima del passo B se noi osserviamo per primo il passo A con la sua situazione e dopo come secondo il passo B con la sua situazione noi ci inganniamo e crediamo che A sia diventato B non è vero ci sono sempre tutti e due c'è il passo A e c'è il passo B e ci sono tutti i passi della vita ora questa verità introdotta da Gesù con quella che allora poteva essere solo una filosofia è quello che è vero e risulta oggi la causa e il suo apparente effetto coesistono ci sono tutte e due assieme come ci sono tutte e due assieme il padre e suo figlio così tutto è simultaneo e immensamente differenziato anche se poi il tutto è sempre uno la novità più grande apportata da Gesù sta proprio nell'equazione in base alla quale uno è uguale a infinito il dio assoluto è l'immensità di ogni possibilità sia uguale sia contraria e sembra che sia la contraddizione che esista tra uno e quella che poi è l'infinita presenza sempre dello stesso uno quella cosa che non capiscono gli arabi che non capiscono ancora gli stessi ebrei di come Dio possa essere uno e molteplice come la ripetuta moltiplicazione della presenza del suo uno questa infinita presenza poi è ridotta a tre fondamentali linee di azione come abbiamo visto infinite sono gli stessi tre talenti del nostro puro spirito sulla base dei quali poi idealizza e riporta il numero alla possibile percezione di un mondo reale di materia antimateria di magnetismo elettricità ossia di tutte le possibili contraddizioni ma se il mondo è binario e contiene tutte le contraddizioni possibili e immaginabili come nella sintesi più uno e meno uno la cui somma è uguale a zero ecco noi siamo messi in condizione di ogni tipo di calcolo mentale e mentre dalla somma più uno meno uno uguale a zero abbiamo l'intuizione di essere in un assoluto indeterminato come quello zero nell'altro attuando non una somma ma una combinazione tra gli opposti più uno e meno uno noi arriviamo a formalizzare non lo zero ma un meno uno che poi non è visto come meno uno ma come meno cento come quel centesimo che poi è visto nel suo contrapposto centuplo dato dal piano frontale dieci per dieci così quando Gesù chiama padre il dio infinito e assoluto e invita noi a chiamarlo nostro padre rivela che ciò che è valido per lui che è il primo figlio quello ideale è valido per ogni figlio di dio e questo che vi sto dicendo amici miei è pura filosofia è immensa filosofia è nuova filosofia dal momento che nemmeno adesso in questa filosofia dell'uomo d'oggi né mai prima qualcuno era arrivato a definirsi figlio di dio voi credete che questa affermazione sia una cosa stupida che non riguarda il campo della filosofia ma solo quella della fede per cui sia solo oggetto di un qualcosa da credere ma non è vero non è assolutamente vero è un qualcosa di assolutamente ragionevole perché quel dio dell'essere si proprio quello che fu con l'avvento dei tre magi venuti da oriente senofane palmenide zenone che fecero l'epifania dello spirito santo della verità sotto ai piedi della stella proprio quella affermazione lì è da togliere dal campo della fede e da riproporre tutta quanta in quel campo della ragione perché bisogna scendere da quell'alto di un cielo che non ha parametri che non ha punti di riferimento per l'uomo d'oggi che usa la sua ragione per credere ed ha tutti i fondamenti per poterlo fare del resto se Yahweh si definì io sono l'essere se il fondamento di ogni cosa fu collocato nell'essere delle cose di tutte le cose dalla filosofia che a un certo punto è arrivata alla percezione del panteismo di tutto è Dio una idea abbandonata dalla fede rigettata ma certo che questa è da rigettare perché dire che tutto è Dio facendone l'analisi logica rivela che tutto è il soggetto è il predicato verbale e l'oggetto del soggetto essere è Dio per cui affermare che tutto è Dio significa che il tutto crea Dio nel suo essere mentre invece il vero è proprio il contrario e che l'essere è tutto e essendo tutto non è solo quel mondo materiale che è visto nel panteismo ma è anche il mondo dello spirito soprattutto il mondo dello spirito proprio in considerazione dei due contesti rivelati da Gesù per la vita quello della materia è quella dello spirito dire che Dio è tutto significa dire che è materia e spirito e quindi siamo proprio al contrario del panteismo ma se Dio è ogni cosa possibile immaginabile allora è anche l'essenza di ogni uomo con una differenza che è un'essenza che è entrata nel dettaglio di una determinazione reale che si è incarnata e di conseguenza anche l'idea dell'incarnazione di Dio cessa di apparire quella cosa unica miracolosa fatta solo con Gesù Cristo Gesù lo disse chiamate Dio Padre nostro ma l'uomo non è stato capace proprio per il rispetto a Gesù Cristo ritenuto il solo Dio che compartecipava dell'umanità e ci volle addirittura un incontro per risolvere questa questione perché si cominciava a dubitare che anche Gesù fosse Dio ci fu Sant'Ambrogio che riuscì a portare a Nicea almeno l'idea che Gesù almeno lui fosse vero Dio vero uomo ma anche l'essere dell'uomo gode per il libero arbitrio che Dio gli ha dato nell'essere di essere nell'essenza di Dio nella sostanza di Dio con il limite della determinazione con la croce della determinazione nel personaggio e si arriva a capire immediatamente in un altro modo quello che Gesù ha differenziato come il buon grano e la zizzania il buon grano che entra nel campo è l'essenza di Dio che entra nell'uomo la zizzania è quell'insieme di valori che esistono nel campo e che non c'entrano con l'essenza di Dio ma con l'essenza del personaggio che essendo limitato ha quello che ha e può essere buono e può essere cattivo il personaggio è un soggetto che può andare benissimo all'inferno e ci andrà alla fine della vita mentre l'anima no l'anima il buon grano alla fine verrà separato e sarà la zizzania cioè tutto questo incartapecorimento che la vita ha messo come un'incrostazione sulla purezza dell'anima a essere scroscata da quell'anima con dolore perché queste incrostazioni saranno sorgenti di dolore a staccarsi dall'anima ma è il percorso ritroso della vita che renderà possibile questo è l'antitesi alla tesi mortale della vita che rende possibile l'esperienza uguale e contraria che se in un primo tempo è illuso un soggetto vivente che è bello arricchire anche se poi ciò comporta la morte di altri per fame è bello arricchire e perché per i talenti dati a quel personaggio mancano tutte quelle altre indicazioni di tipo morale che possono venire fuori da valori spirituali indotti da una fede indotti da una religione indotti da una virtù ideale no questo qui è uno che è terra a terra capisce solo la sua pancia capisce solo quel poco perché ha quel talento lì l'esame a rovescio a un certo punto gli farà perdere tutto quello che ha guadagnato e sperimentando la perdita e quindi con il dolore della perdita correggerà il piacere che aveva avuto prima del guadagno e si renderà conto che la virtù sta nel giusto mezzo quello arrivato in un altro settore del mondo bugza bene non è in un modo astratto e generalizzato attraverso quello io sono chi sono che faceva parte della vecchia interpretazione di Dio ma attraverso il Dio che propone adesso Gesù Cristo con la sua verità quella comunicata a Nicodemo che si arriva a capire che bisogna scendere dall'alto di questa valutazione indefinibile per arrivare a misurare tutto sui reali passi fatti dall'uomo bastano essi a riportare un vecchio alla sua nascita non occorre altro occorre che Dio il sistema abbia collocato alla fine dell'esperienza della vita umana che avanza come la luce un bello specchio che ricacci indietro quella luce quando la luce fa un sacco di viaggi avanti e indietro così si rinforza perché ritorna sempre sui suoi passi diventa fuori un laser perché la luce che ritorna indietro lo ritorna sui suoi passi noi non siamo in grado di valutarne l'avanzamento ma torniamo a queste questioni l'uomo che si appropria dell'essenza di Dio che esiste nel suo personaggio è un'anima di Dio che si trasforma nell'anima di un ladro e per questo nel Calvario quando Gesù Dio fu crocifisso ci furono tre croci perché dovevano rappresentare l'interezza dell'umanità trinitaria in quello in mezzo che era l'unico che diceva la verità quando diceva che lui e il padre erano la stessa cosa e gli altri due apparentemente più modesti che si credevano se stessi invece erano due grandi ladri dell'identità di Dio proprio perché avevano il peccato di credersi se stessi invece Gesù Cristo in mezzo era condannato dall'uomo proprio per quello la specificità di ogni uomo costituito da materia e da tutto il suo movimento è esattamente come ciò che esiste in ogni reale rappresentazione che noi vediamo in teatro ogni corpo apparente ed ogni avventura corporea deve essere animata allora l'anima del creatore entra nel personaggio è un assoluto inanime che può rivelarsi una molteplicità infinita di anime e ad una ad una anima il personaggio un personaggio che non ha la reale responsabilità della sua avventura umana sta vedendo solo un progetto e lo sta facendo suo è solo come un attore che è entrato nella parte e la recita con scrupolo la fa sua nello stesso modo in cui le anime infinite di Dio entrano nel nostro personaggio e fanno loro quella parte assegnata loro dalla divina providenza non c'è alcuna differenza e come ogni attore che interpreta con fedeltà la parte assegnata a lui è realmente in azione come un collaboratore di chi ha scritto l'opera addirittura come un suo figlio in quel modo il libero arbitrio di suo padre l'attore lo rispetta perché nello stesso modo Gesù riconobbe che non il suo ma il libero volere del padre era quello che contava ebbene ogni uomo entra nel libero arbitrio del padre e lo fa suo con la massima possibile fedeltà ma è sempre il libero arbitrio del padre anche se Gesù afferma che lui è il primo figlio di Dio Gesù pur essendo il primo figlio di Dio non ha la possibilità di vincere sul libero arbitrio del padre quando arriva il tempo della sua fine c'è una vera lotta interiore tra il libero arbitrio del figlio e quello del padre e Gesù alla fine afferma il primato del libero arbitrio del padre pertanto ancora una volta l'interpretazione fideista delle scritture non consente una retta distinzione e comprensione della filosofia di Gesù se è solamente mandato se il suo libero arbitrio è corretto solo quando è quello del padre come è possibile ancora una volta chiamare dono il libero arbitrio che l'uomo ha inteso di aver avuto quando è quello di operare modifiche sulla parte assegnata da Dio nel dramma dell'uomo l'azione fideista che non fa buon uso della ragione non arriva a capire che il libero arbitrio che anche il figlio di Dio ha avuto come un vero dono divino si riferisce solo alla passione di suo figlio ai movimenti dell'anima alla libera reazione alla croce assegnata a lui da padre questa libera costruzione riguarda solo l'abito interiore del figlio dell'anima nel possesso della libertà assoluta che ha nessun libero arbitrio può essere più grande di quello che riguarda proprio la libera costruzione dell'anima personale perché in essa si costruisce l'idea personale del Dio della sua salvezza vedete dovete capire l'immensa novità portata dalla visione di Gesù nel dualismo tra l'uomo e Dio scoperto e spiegato già dai filosofi la spiegazione più importante di questo dualismo fu già affrontata da Socrate libero arbitrio di scegliersi il Dio personale fu proprio secondo la visione di Socrate Dio era l'idealizzazione personale che ciascuno faceva di Dio Dio insomma era un'idea dell'uomo Socrate aveva considerato Dio come la creazione dell'uomo seppur ideale la fonte dell'immaginazione umana mentre la verità era proprio quella uguale e contraria l'uomo era interprete del libero arbitrio ricevuto da Dio avendo come personale libero arbitrio quello della interpretazione di Dio mettendo in atto il modo di interpretare una parte che non si può cambiare anche un attore è libero nelle interpretazioni della sua parte ci aggiunge il suo specifico e lo specifico che ogni uomo può aggiungervi riguarda solo i movimenti dell'anima in questi movimenti dell'anima l'uomo è veramente stato dotato del libero arbitrio anche di immaginare Dio ossia di arrivare a capire chi sia cosa voglia quale sia il rapporto tra Dio e l'uomo Dio ama suo figlio ma per essere riamato ha lo stesso modo creativo con il quale Egli ha creato ogni suo figlio Dio ha creato l'uomo per essere a sua volta ricreato in lui come il Dio concreto e reale della sua specifica salvezza personale ebbene notatelo questa è ancora la visione che il mondo ha oggi infatti Dio sembra non esserci non fare nulla un filosofo del nullismo è arrivato addirittura a dire che Dio è morto ebbene l'uomo di oggi che pensa che il suo famoso libero arbitrio gli consenta di cambiare il progetto di Dio quello che sarebbe il progetto ideale di Dio e che l'uomo arriva a violentare è quell'idea balorda assolutamente balorda di chi non avendo esattamente ragionato considerando il Vangelo di Gesù per le verità che diceva ma solo per quella poesia che porta poi l'uomo ad atteggiarsi nei confronti di Dio non come un figlio ma come una creatura mantenendo le distanze sembrando addirittura una cosa mostruosa all'uomo di credersi figlio di Dio e non per un falso uso della sua fede ma nel rispetto oh io Dio non sono tuo figlio tuo figlio è solo Gesù e l'uomo allora non arriva a capire più le ragioni fondamentali per cui Gesù ha detto quando pregate Dio dite padre nostro che sei nei cieli non arrivare a capire la verità delle cose e rimanendo sempre solo con l'idea di un cielo irraggiungibile di un al di là che non si sa cosa sia mentre invece è esattamente quanto è uguale e contrario a questo al di qua non aver capito su che parametri potere costruire la realtà di un al di là ossia su questo al di qua perché l'al di là che lo trascende interamente in un modo divino è quello che lo pone proprio uguale ma contrario quindi è uguale nell'atto creativo ma è contrapposto nelle intenzioni della creazione per cui si arriva a capire che questo mondo che appare così è uguale e contrario appare dominato da Satana appare dominato dalla mancanza di esistenza di Dio mentre invece c'è proprio Dio presente che comanda ma che appare non comandare perché quella conclusione unica della vita attraverso la quale Dio compone perfettamente tutte le forze messe nella vita e le porta ad un risultato unico quel comando da cui non si può scappare perché da 10 diviso 9 viene un risultato unico quel comando porta alla comprensione di tutta la mancanza di quel comando e alla visione di un mondo che è proprio nei grandi pasticci insomma per arrivare a giustificare l'apparente inattività del Signore l'uomo oggi è portato a ritenere un dono quel libero arbitrio che fu conquistato da un furto da una disobbedienza nel paradiso terrestre perché Dio non aveva detto ti dono la possibilità libera di mangiare dell'albero della mila se lo vuoi mangiare glielo aveva proibito l'uomo è divenuto come Dio seguendo il consiglio di Satana mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male e illudendosi in tal modo di potere cambiare il suo disegno secondo l'idea del bene e del male di cui l'uomo si è reso interprete ma questa è una possibilità che non esiste assolutamente non esiste però l'uomo è portato a vedere il contrario e allora l'incapacità di giudizio della verità che Gesù ha spiegato a Nicodemo porta all'incapacità di capire il vero perfino nella interpretazione dell'antica scrittura perché se la ragione ha un senso Dio che vieta qualcosa ed è contraddetto non si trova di fronte a chi riceve un dono se poi è finito finisce all'inferno per quell'azione che ha fatto non è affatto un dono non sarebbe affatto un dono ma appare perché Dio consente all'uomo di farsi una visione maligna non attraverso la vera azione vista ma quell'azione uguale e contraria che è la maligna interpretazione della vita e la maligna interpretazione della vita porta addirittura alla visione della morte che veramente si sconfigge se si legge con attenzione il non il Vangelo il Vangelo di Gesù però sulla base della lettura filosofica e non fideista perché il fideista si pone nei confronti di Dio come un soggetto inferiore si pone di fronte a un soggetto superiore invece l'uomo deve arrivarsi a porsi con giustizia nei confronti di Dio non non come un inferiore come un figlio che è aiutato a costruirsi per essere poi allo stesso livello del padre quindi non un inferiore un figlio da allevare questo è l'atteggiamento cui si arriva se si è mossi dalla ragione e non dal fideismo che porta poi l'uomo a farsi piccolo 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 nei confronti di Dio rifiutandosi di vedere l'origine divina che c'è nell'uomo in vano Gesù ha detto tutte le cose che avete fatte a ciascuno le avete fatte a Dio quando verrà il momento sarete divisi in pecore e caproni da una parte saranno coloro che vieni tutto quelle volte che hai fatto qualche cosa di buono l'hai fatta a me e gli altri tutte le volte che non le hai fatte non le hai fatte a me e poi c'è la verifica dell'opposto tutto il male che hai fatto all'uomo l'hai fatto a me in vano Gesù lo ha detto ma l'uomo arriva a capire che Dio bontà sua identifica nell'uomo se stesso proprio per un bisogno di giustizia nei confronti dell'uomo ma non per una verità ecco io mi fermerei qui bisogna considerare la risposta che Gesù disse a Nicodemo per capire bisogna scendere dall'alto bisogna abbandonare quella visione fideistica che pone un paradiso in quel contesto magico assolutamente scollato da questa nostra realtà per ricondurlo a quel realismo che noi vediamo proprio nel mondo ma proprio nel rigetto del mondo ecco perché bisogna odiare questo mondo perché ha una dinamica perversa bisogna dire no alla dinamica perversa perché il no del no è il sì ecco per fortuna interpretando le cose che oggi sono note alla scienza per riscontrare la verità di Gesù si arriva a capire una verità così lungimirante che ancora tutt'oggi non è stata capita dall'uomo nonostante egli abbia capito la complessità del mondo e quel famoso principio di azione e reazione che è chiaro nella configurazione di un principio affermato e non si traduce poi mai in una comprensione reale che ti porta a dire che se noi vediamo solo la reazione a un'azione pregressa noi vedendo l'azione di vita in questo mondo non stiamo vedendo l'azione ma l'azione uguale e contraria mi fermo veramente qui e rimando il proseguo di questo argomento a un argomento successivo un argomento Grazie.